Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere due esercizi d'esame tratti sempre da tracce naturalmente di algebra lineare. La prima si ha T, un operatore naturalmente sullo spazio vettoriale R3, quindi capiamo che evidentemente parliamo di un endomorphismo definito da T di x con 1 x con 2 x con 3 uguale a 2 x con 1 più 2 x con 2 più x con 3, x con 1 più 3 x con 2 più x con 3, x con 1 più 2 x con 2 più 2 x con 3. Tre domande, come al solito, verificare che T sia invertibile e in caso affermativo scriverne l'espressione dell'operatore inverso T alla meno 1 evidentemente, calcolare, determinare gli autovalori e gli autospazi associati all'operatore T, che capiamo essere un endomorphismo anche se non viene direttamente citato, denurne se T è diagonalizzabile, naturalmente ci chiedono giustificando la risposta. Partiamo! Ora, alla prima domanda, domanda numero 1, rispondiamo, domanda che in questo momento non l'abbiamo visto mai, una domanda del genere, per determinare se, per vedere appunto se il nostro operatore T, il nostro endomorphismo è invertibile, basta vedere se il determinante determinante della matrice associata all'operatore T al endomorphismo F rispetto alla base canonica di R3, che è 1, 2 e 3, ha determinante diverso da 0, cioè essenzialmente a rango massimo pari a 3. In questa maniera vedremo che T è invertibile e calcoleremo a questo punto, una volta verificato che l'operatore T è invertibile, questo T alla meno 1 sarà rappresentato, l'inverso, l'operatore inverso T alla meno 1 sarà rappresentato dalla matrice inversa A alla meno 1, ovvero l'inverso della matrice A, ripeto, associata all'endomorphismo, all'operatore T, rispetto alla base canonica E1, E2, E3. Allora, intanto scriviamo come assoluto la matrice associata a T rispetto alla base canonica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, E1, E2, E3, che sostanzialmente consiste nel riportare in colonna i coefficienti di questa operazione, di questa espressione, quindi 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2. Evidentemente, calcolando determinate di A con la regola di Salus, per esempio, abbiamo che 2 per 3, 6 per 2, 12, tirando un punto verso il passo 2 per 1, 2 per 1, 2, tirando un punto verso lato 2 per 1, 2 per 1, 2, più 2, dall'altra parte ricordiamoci di mettere il segno meno davanti, quindi abbiamo 1 per 3, 3 per 1, 3, meno 3, 2 per 1, 2 per 2, 4, meno 4, 1 per 2, 2 per 2, 4, meno 4. 12 più 2 fa 14, più 2 fa 16, eccolo qua, meno 3, meno 4 fa 7, meno 7, meno 7 1 ci fa 5, 5 è il risultato di questo determinante associato alla matrice 3 per 3, che essendo un numero diverso da 0, possiamo affermare che il rango di A è 3 e pertanto possiamo affermare che la matrice A è invertibile e pertanto anche l'operatore T a questo punto risulta essere invertibile e pertanto, ancora andiamo l'inversa, scriviamo la trasposta di A, invertendo le righe con le combi, quindi al posto di 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, scriviamo 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, ne scriviamo l'aggiunta che ricordo è, consiste nel mettere i complementi algebrici, quindi il complemento algebrico di 2, vedete, è 2 per 3, 6, 1, 2, 4, positivo, il complemento algebrico di 1 è 2 per 2, 4, meno 2, 2, ma col meno davanti meno 2, il complemento algebrico del coefficiente 1 è 2 meno 3 che fa meno 1, rimane meno 1, il complemento algebrico di 2 sarà negativo davanti, quindi sarà, eccolo qua, un 2 meno 1, 1 col meno davanti diventa meno 1, il complemento algebrico di 3 è un 2 per 2, 4, meno 1, 3, positivo, il complemento algebrico del coefficiente 2 sarà 1 per 2, 2, meno 1, 1, col meno davanti diventa meno 1, il complemento algebrico di 1 è 1, 2, meno 3 per 1, 3, 2, meno 3, meno 1, rimane meno 1, il complemento algebrico di 1 è un 4, è un 4 meno 2, 2 col meno davanti però meno 2, infine il complemento algebrico del 2 è un 3 per 2, 6, meno 2 per 1 fa 2, 6, meno 2, 4, 4 appunto è il complemento algebrico dell'ultimo elemento, il 2. Tattanto dividendo ciascun elemento per il determinante 5 otteniamo l'espressione di a meno 1, matrice inversa associata all'operatorio inverso che sarà 4 diviso 5, meno 2 diviso 5, meno 1 diviso 5, meno 1 diviso 5, 3 fatto 5, meno 1 fatto 5, meno 1 fatto 5, meno 2 fatto 5, meno 4 fatto 5, quindi in letta per riga sarà a meno 1 sarà 4 quinti, meno 2 quinti, meno un quinto, meno un quinto, 3 quinti, meno un quinto, meno un quinto, meno 2 quinti, 4 quinti. Questa è la risposta alla prima domanda, a questo punto possiamo subito però dire che, visto che la matrice A associata all'operatore T rispetto alla base canonica 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, cioè 1, 2, 3, e risulta essere, avere rango massimo 3, possiamo anche dire che, in questo caso, possiamo notare come la dimensione dell'immagine di F, sia dello sottospazio elettorale immagine di F, anche se non ce lo chiedono, possiamo dire E3, che coincide con rango, pertanto possiamo dire che F è chiaramente subiettiva, non solo, possiamo anche dire che è anche iniettiva in quanto la dimensione del nucleo di F, cioè di uno sottospazio elettorale che ha di F, dal teorema delle dimensioni sarà la differenza fra la dimensione di R3, quindi 3, meno la dimensione dell'immagine di F, 3, meno 3, 0, e pertanto anche la dimensione del car di F, la dimensione del car di F è 0, dimensione di immagine di F è 3, quindi F è subiettiva, iniettiva, F è obiettiva, quindi questo operatore T che è un endomorfismo è anche un automorfismo. Detto questo, naturalmente possiamo a questo punto rispondere alla domanda numero 2. Allora, per rispondere alla domanda 2 andiamo a calcolare il polinomio caratteristico, quindi prima di tutto andiamo a determinare gli autovalori associati all'operatore T, scrivendo, naturalmente impostando il determinante di A, che è determinante di, ricordo, riscriviamo la nostra matrice, il nostro determinante 3x3 associato alla matrice 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, dove nella diagonale principale ci sottraiamo il meno lambda, quindi vediamo che il determinante sarà 2 meno lambda, 2, 1, 1, 3 meno lambda, 1, 1, 2, 2 meno lambda. Lo poniamo uguale a 0, in quanto lo sappiamo, dobbiamo porlo uguale a 0, abbiamo che P di lambda, il nostro polinomio caratteristico uguale a 0 diventa l'equazione caratteristica, che sarà applicando ad esempio la regola di Sartre, otteniamo che 2 meno lambda per 2 meno lambda è un 2 meno lambda al quadrato per 3 meno lambda, poi 2 per 1, 2 per 2, 2 più 2, 2 per 1, 2 per 2 più 2, attenzione che dall'altra parte mettiamo i segni 1 davanti, mettiamo 1 per 1, 1 per 3 meno lambda, con meno davanti abbiamo un lambda meno 3, poi dall'altra parte 2 per 1, 2 per 2 meno lambda è un meno 2 che moltifica 2 meno lambda, dall'altra parte 2 per 1, 2 per 2 meno lambda è un meno 2 che moltifica 2 meno lambda, tutto quanto uguale a 0. Andiamo a sviluppare questo quadrato di binomio che è un quadrato del primo 4 più lambda quadrato nel secondo, meno 4 lambda è il quadrato del primo per il secondo, per naturalmente 3 meno lambda, poi abbiamo 2 più 2 è 4, più lambda, meno 3, meno 2 per 2 fa meno 4, meno 2 per meno lambda fa più 2 lambda, meno 2 per meno 2 fa meno 4, meno 2 per meno lambda fa 2 lambda, uguale a 0. Andiamo a moltiplicare, 4 per 3 fa 12, 4 per meno lambda fa meno 4 lambda, lambda 4 per 3 fa 3 lambda quadro, lambda 4 per meno lambda è un meno lambda cubo, meno 4 lambda per 3 è un meno 12 lambda, meno 4 lambda per meno lambda è un meno che meno più, 4 lambda per lambda è un 4 lambda quadro. Poi abbiamo 2 più 2, abbiamo detto che fa 4, 4 e meno 4 si possono eliminare perché ho posti, poi abbiamo un lambda più 2 lambda e un 3 lambda più 2 lambda fa 5 lambda e poi naturalmente meno 3 meno 4 è meno 7. A questo punto andiamo a risolvere, ci viene uguale a 0 l'equazione caratteristica finale, ci viene un meno lambda cubo, avere un 3 lambda quadro più 4 lambda quadro è un più 7 lambda al quadrato, abbiamo un meno 12 lambda, meno 12 lambda più 5 lambda è un meno 7 lambda, meno 4 lambda è un meno 11 lambda, 12 meno 7 è 5, meno lambda cubo più 7 lambda quadro, meno 11 lambda più 5 uguale a 0 è l'equazione caratteristica del terzo grado del lambda della quale dobbiamo trovare i 3 autograuli lambda, applichiamo ad esempio Ruffini, in questo modo si potrebbe anche, notiamo che per lambda uguale a 1 viene un meno 1 più 7 è 6, meno 11 più 6 è 6, meno 6 è 6, quindi si annulla il quadrinomio di terzo grado, quindi possiamo mettere 1 qua, mettiamo qui i coefficienti del nostro, i coefficienti di lambda cubo, quindi meno 1, il coefficiente di lambda quadro quindi 7 e il coefficiente di lambda quindi meno 11, il terreno 5 lo mettiamo all'estrema destra, passiamo il meno 1, meno 1 per 1 fa meno 1, 7 meno 1 è 6, più 1 è 6, meno 11 più 6 fa meno 5, meno 5 per 1 fa meno 5, 5 meno 5 per il teorema del resto si annulla, quindi questi rappresentano i coefficienti del terreno di secondo grado che è meno lambda quadro più 6 lambda meno 5, raccogliamo un meno a fattore comune, questo lambda 1 diventa 1 meno lambda se raccogliamo un meno, quindi questo diventa lambda quadro meno 6 lambda più 5, ma lambda quadro meno 6 lambda più 5 per la regola del terreno particolare è iscrivibile come lambda meno 5 per lambda meno 1, quindi abbiamo che questo meno lambda cubo più 7 lambda quadro meno 11 lambda più 5 uguale 0, l'equazione caratteristica può essere scomposta in prodotto di tre binomi che sono 1 meno lambda per lambda meno 1 per lambda meno 5, notiamo come ci sono quindi due soluzioni solo, la prima è a moltiplicità algebrica pari a 2, quella pari a 1, lambda 3 invece pari a 5 e a moltiplicità algebrica pari a 1, affinché, ripeto, per il teorema già espresso, affinché il nostro endomofismo, il nostro operatore T sia diagonalizzabile, ricordo, l'ultima domanda, dovremo avere che intanto è soddisfatta la condizione secondo la quale gli autovalori sono reali, naturalmente deve risultare che la modificità algebrica del primo lambda coincida con la modificità geometrica di lambda, ovvero coincida con la dimensione dell'autospazio, quindi la dimensione dell'autospazio composto dagli autovettori associati al lambda uguale 1 deve essere 2, attenzione che invece la modificità algebrica di lambda deve essere pari alla modificità algebrica di lambda, cioè 1 deve essere la dimensione dell'autospazio relativo all'autovettore associato all'autovalore lambda uguale a 5, dovremo verificare questo, andiamo a questo punto a determinare gli autovettori associati appunto all'autovalore 1 di modificità algebrica pari a 2 e all'autovalore 5 di modificità algebrica pari a 1. Allora, andiamo a sostituire prima l'autovalore lambda uguale a 1 e poi il lambda uguale a 5 per trovare gli autospazi e di 1 e di 5, ovvero relativi agli autovettori, andiamo a risolvere un sistema omogeneo dove a posto, se stituiamo al posto di lambda uguale a 1 troviamo tre equazioni uguali, x con 1 più 2 con 2 più 3 uguale a 0, x con 1 più 2 con 3 più 3 uguale a 0, quindi questo sistema si riconduce alla risoluzione di un'unica equazione x con 1 più 2 con 2 più 3 uguale a 0, che è un'equazione in e tre incognite ma un'equazione solo, quindi ammette l'infinito alla 3 meno 1 soluzione, l'infinito alla 2 soluzione, quindi già sappiamo che la dimensione di questo autospazio è 2, quindi la modificità algebrica di lambda uguale a 1 sarà 2, pertanto già possiamo dire che per adesso la condizione di diagonalizzazione è verificata. Andiamo a porre ad esempio x con 1 uguale a meno 2 con 2 meno x con 3, ponendo 2 con 3, spettivamente con hk reali meno 0, otteniamo che meno 2h meno k, h e k sono le soluzioni del nostro autospazio di 1, ovvero divise meno 2h, h0 più meno k, 0k, raccogliendo spettivamente hk otteniamo che h moltiplica meno 2, 1, 0, k moltiplica meno 1, 0, 1, meno 2, 1, 0, meno 1, 0, 1 sono appunto, è il nostro autospazio di 1. Molteplicità quindi geometrica, pari a 2, relativa a lambda uguale a 1. Per lambda uguale a 5 ci viene fuori questo sistema meno 3x con 1 più 2x con 2 più 3 uguale a 0, x con 1 meno 2x con 2 più 3 uguale a 0, x con 1 più 2x con 2 meno 3x con 3 uguale a 0. Lo riduciamo un pochino, solamente per un pochino, con le mosse di Krauss, ad esempio possiamo cambiare gli elementi della terza riga facendo a con 3 meno a con 2, quindi sostanzialmente moltiplicando per meno 1 i coefficienti della seconda riga, quindi riscriviamo meno 3, 2, 1 i coefficienti della prima, riscriviamo anche 1 meno 2, 1 i coefficienti della seconda, abbiamo che 1 meno 1 fa 0, 2 meno 2 fa 4, 2 più 2, 4 e 3 meno 3 meno 1 fa meno 4. Moltiplicando gli elementi ancora della terza riga per un quarto, otteniamo 0, 1 meno 1, eccolo qua, a questo punto cambiamo la seconda riga andando semplicemente a sommare a con 2 più a con 1, quindi abbiamo, questa diventa, naturalmente 0, 1 meno 1 rimane così, vediamo che 1 meno 3 è meno 2, meno 2 più 2 è 0, 1 più 1 fa 2, quindi la nostra nuova, a questo punto andiamo a moltiplicare per un mezzo gli elementi della seconda, otteniamo questa matrice di stellare del tipo meno 3, 2, 1, 2 per un mezzo fa meno 1, 0, 1, 0, 1, meno 1, a questo punto c'era questa, calcolando il determinante con Sarus, notiamo che questo è 0, questo è 0, meno 1, vedete che viene un determinante pari a 0, se andiamo a calcolare con Sarus, viene facilmente 0, quindi vuol dire che il rango non è 3 e il rango 2, non al caso, ammette infinito alla 1 soluzione nella nostra matrice, prendiamo questo minore qui, costituito dalle prime due colonne, dalla seconda e terza riga, otteniamo che meno x con 1 è uguale a meno x con 3, così come x con 2 portato dall'altra parte è uguale a x con 3, ponendo x con 3 uguale a t, comunque questo t appartenente da di meno il valore 0, l'autospazio di 5, relativo all'autovarore 5, sarà t, t, t che moltiplica 1, 1, 1, e pertanto una base di autovettori può essere meno 1, meno 2, 1, 0, meno 1, 0, 1 e 1, 1, 1, pertanto possiamo concludere, il nostro primo esercizio che faremo in questo video è che il nostro operatore t è sicuramente diagonalizzabile, l'abbiamo già visto prima, in quanto gli autovalori sono distinti, questa è la prima condizione, inoltre rispettivamente la molteplicità algebrica di 1 è pari alla molteplicità geometrica di 1, in entrambi i casi 2, così come la molteplicità algebrica di 5 coincide con la molteplicità geometrica di 5, in questo caso 1, e pertanto il nostro endomorfismo, il nostro automorfismo che abbiamo verificato che è anche un endomorfismo t, il nostro operatore t è pertanto diagonalizzabile, passiamo adesso a risolvere il secondo quesito, il secondo esercizio che è un altro quesito, un altro che è un'altra traccia d'esame. In questo secondo esercizio di questo video che evidentemente come durata sarà più lungo perché è comprendente due prove d'esame, ma evidentemente fatelo andare bene, consideriamo questa volta l'endomorfismo unico F sullo spazio vettoriale R3 definito dalle seguenti equazioni, F di E1 pari a E1-E2, F di E2 pari a E1-E2, F di E3 pari a 2E1-2E3, dove E1, E2, E3 sono i vettori che rappresentano la base canonica di R3. Ci chiedono tre domande, ci fanno la domanda numero A, determinare il polinono caratteristico di F, stabilire la seconda domanda B è, stabilire se F è diagonalizzabile oppure no, domanda C, determinare gli eventuali valori di K, K appartenenti a reali, per i quali il vettore di coordinate 2K e 2 più K appartiene al nostro spazio vettoriale in margini di F. Come al solito, allacciamo le cinture, partiamo! Allora, l'esizio è molto semplice, F1, E1-E2, F di E2, E1-E2 e F di E3, E1-E2 sono appunto le equazioni che riguardano il nostro endomorfismo F, a cui è associata una matrice che andiamo a basta mettere in colonna 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, matrice associata all'endomorfismo F rispetto alla base canonica E1, E2, E3. È evidente come questa matrice a rango 1, in quanto vediamo come sia i vettori 1, 1, 2, meno 1, meno 2, 0, 0, 0, siano linearmente dipendenti, ma sono linearmente dipendenti anche i vettori 1, 1, 2, meno 1, meno 1, meno 2. Tattanto il rango di A è 1. La dimensione quindi delle sottospazie in margini di F è 1 e una base è costruita ad esempio da 1, 1, 2, è evidente. Tattanto F, visto che la dimensione di margini di F è pari a 1, diversa sicuramente dalla dimensione di R3 che è 3, non è né subiettiva e tantomeno è iniettiva. E quindi F non è un endomorfismo, non è un automorfismo. Detto questo, andiamo a determinare il polinomio caratteristico, determinante di amolo lambda I, il nostro P di lambda, che praticamente consiste nel mettere il meno lambda, aggiungere il meno lambda agli elementi che compongono la diagonale principale. Quindi avremo che il determinante da porre uguale a 0 è 1 meno lambda, meno 1, 0, 1, 1, 1 meno 1 meno lambda a 0, 2 meno 2 meno lambda. Possiamo applicare il primo problema di Laplace ad esempio agli elementi della terza colonna dove sono presenti 2, 0 su 3, quindi avremo che meno lambda moltiplica questo minore 2 per 2, ovvero 1 meno lambda meno 1, 1, 1 meno lambda. Quindi avremo che, ugualiando la 0, avremo che meno lambda moltiplica il prodotto di 1 meno lambda per meno 1 meno lambda, meno 1 per meno 1, quindi più 1 uguale a 0. qua viene meno lambda che moltiplica, 1 per meno lambda fa meno lambda, 1 per meno 1 fa meno 1, meno lambda per meno lambda fa lambda quadro, meno lambda per meno 1 fa più lambda. Vediamo come 1 meno 1 e lambda e meno lambda se ne vadano, meno lambda per lambda quadro uguale a 0 è meno lambda cubo. Quindi meno lambda cubo uguale a 0 è l'equazione, rappresenta l'equazione caratteristica di questo endorofismo F e pertanto gli autovalori è uno solo, l'autovalore, avente moltiplica pari a 3, lambda 1, 2, 3, pari a 0. Adesso deve essere associato un autovettore, lo andiamo a calcolare subito, e si vede chiaramente come F non sia in questo caso diagonalizzabile, perché evidentemente vedremo come, affinché sia di diagonalizzabile, lambda è 0 quindi è un valore reale, ma deve succedere che la modificità geometrica di lambda, in questo caso pari a 3, deve essere pari alla dimensione dell'autospazio E di 0, molto difficile che accada in questo caso. Andiamo a studiare lambda uguale a 0 e vedremo come la dimensione dell'autospazio relativo all'autovalore lambda uguale a 0 non sarà 3, ovvero ricordo deve valere l'uguagliato tra la modificità geometrica di lambda e la modificità geometrica. Vediamo se questo caso succede. Vi dico subito che non succederà e anche perché si intravede in maniera abbastanza evidente. Rispondiamo quindi alla penultima domanda, cioè al fatto di stabilire se F sia diagonalizzabile o no. Come detto è evidente che F non sia diagonalizzabile, in quanto sostituendo lambda uguale a 0 si riottengono, si riottengono le equazioni x comune 1 meno 2 uguale a 0, x comune 1 meno 2 uguale a 0 e 2 x comune 1 meno 2 uguale a 0, ovvero che si ricondurcono a un suo sistema rappresentato da una sola equazione x comune 1 meno 2 uguale a 0, che ammette evidentemente infinito alla due soluzioni, pertanto la modificità algebrica di 0 e 3 contro quella geometrica che è 2, pertanto possiamo certamente affermare che evidentemente il nostro endocorfismo F questa volta, è una volta che succede ma può succedere, non è pertanto diagonalizzabile, in quanto, ripeto, non è soddisfatta la condizione necessitaria sui cittadini, dice che affinché la condizione necessitaria sui cittadini, affinché F sia diagonalizzabile, che gli autovalori associati al endocorfismo siano reali e inoltre la modificità algebrica coincida con quella geometrica, cosa che la seconda condizione non succede. Andiamo a questo punto a rispondere all'ultimo quesito dove ci chiedono di determinare per qualità di K, il vettore di coordinate 2K e 2WK appartiene all'immagine di F, ovvero questo spazio elettorale immagine di F. Andiamo subito a fare. Poi, naturalmente per verificare se un vettore appartiene al spazio elettorale immagine di F, si prende la base calcolata di immagine di F che opportunamente abbiamo calcolato prima, che ad esempio è costruita dalla colonna 1, 1, 2, possiamo mettere la riga o il colonna non cambia niente e metterla in combinazione lineare con il nostro vettore, i coordinanti 2K e K più 2. E a questo punto vedere che il determinante formato dalle due coordinate dei due vettori sia 0, ovvero dobbiamo vedere se per quale numero di K questi due vettori sono linearmente dipendenti, perché se sono linearmente dipendenti vuol dire che effettivamente il vettore di coordinate 2K e K più 2 appartiene al spazio elettorale immagine di F. Se li mettiamo in riga, prendiamo ad esempio, non so, prendiamo le prime due righe di due colonne, abbiamo K per 1K, meno 2, K per 2 uguale 0, quando K uguale 2, quindi per K uguale 2, direi che sostanzialmente il vettore appartiene, il vettore di coordinate 2K, K più 2 appartiene al spazio elettorale immagine di F. Questo compito, questo traccio esame di rendere molto semplice, questo naturalmente conclude il nostro video che è stato naturalmente centrato su vari quesiti, come al solito, riguardanti gli endomorfismi, vi rimando quindi al prossimo video, non perdetelo ancora, riguardanti le applicazioni lineali di endomorfismi. Ciao a tutti!